L'incidente nella mattinata di giovedì 13 gennaio, poco dopo le 7.30, sulla provinciale 222 in frazione Sant'Antonio di Castellamonte, a scontrarsi una sette leone e un camion. L'impatto è stato violento, entrambi i mezzi sono usciti di strada e hanno terminato la loro corsa nel fosso che la costeggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Volpiano, i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea e il 118. Feriti i due occupanti della vettura, che dopo le prime cure sono stati trasportati in ospedale di Ivrea. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Grazie! 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 Grazie!